Scuole chiuse sabato mattina a Roveredo d'Aviano per precauzione. La decisione disposta dai sindaci in seguito al devastante incendio scoppiato poco dopo la mezzanotte nell'impianto di compostaggio di rifiuti dell'azienda Snua di Aviano nel Pordenonese. Un rogo partito per cause ancora ad accertare nel deposito di materiale plastico, circa 3.000 quintali di materia non riciclabile. Ma i carabinieri e i vigili del fuoco non escludono possa essersi trattato di autocombustione. Spento l'incendio nell'atmosfera si è diffusa una nube di fumo dall'odore nauseabombe. Per questo motivo la popolazione di Aviano e Roveredo è stata invitata a rimanere in casa per qualche ora finché il fumo non si fosse disperso in atmosfera. Oltre alle scuole chiuse alla base militare di Aviano è stata impartita l'indicazione di non eseguire attività all'aria aperta. Intervenute due squadre di vigili fuoco di Pordenone e Maniago, personale dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, per i monitoraggi delle emissioni in atmosfera della combustione, il nucleo NBCR dei vigili del fuoco. Sul posto si sono recati anche i sindaci di Aviano e Roveredo, a dare l'allarme ai cittadini che dall'esterno si sono accorti del fumo fuoriuscire dal deposito. Nelle prossime 48 ore si avranno gli esiti delle analisi su un'eventuale presenza di diossina sprigionatasi nell'atmosfera.